Giorgio Simeone Giorgio Simeone, responsabile della qualità di stabilimento e oggi vi mostrerò un'applicazione che utilizziamo per supportare i nostri fornitori in tutto il mondo. Mi riferisco all'utilizzo degli HoloLens di Microsoft, degli occhiali innovativi per comunicare in realtà aumentata. Quando parliamo di seguire procedure di qualità e di verifica, avere le mani libere mentre si lavora può essere un grande vantaggio. Abbiamo integrato quindi questa strumentazione nella nostra rete ABB e ora siamo in grado di seguire le operazioni dei nostri fornitori che hanno adottato questa tecnologia direttamente da remoto. In questo momento stiamo supportando un fornitore che ha problemi con uno strumento di misura. Il tecnico ABB è collegato ad una comune chat, mentre dall'altra parte il fornitore sta indossando un paio di HoloLens ed è in attesa di istruzioni. Una volta stabilito il collegamento è possibile comunicare normalmente e sfruttare la tecnologia degli occhiali, ad esempio caricando un documento in PDF in realtà aumentata per guidare la procedura di calibrazione dello strumento. Facilità di utilizzo, setup semplici ed efficacia sono i punti di forza di questa applicazione. Praticamente siamo in grado di essere virtualmente dal fornitore in pochi semplici click. Dopo l'inizio della pandemia abbiamo intensificato l'utilizzo di questa applicazione. Offrendo un rapido supporto in un momento storico in cui viaggiare era praticamente impossibile e i servizi erano rallentati. Questo tipo di supporto è stato percepito come un netto miglioramento del servizio e infatti riceviamo sempre più richieste di interventi da remoto e anche da altri fornitori. Grazie a tutti.